Dopo la lunga giornata di proteste e occupazioni da parte degli indignati, il questore di Bologna chiede il ripristino della legalità. Le proprietà degli immobili hanno già presentato querela alla procura, il comune, pronto allo sgombero. Otto anni dopo la strage di Nassiria, anche Bologna ricorda le vittime italiane in Iraq. Tra questo il maresciallo dei carabinieri Massimiliano Bruno che viveva a Bologna con la famiglia a Eti G le parole commosse del padre. Sfila il portafoglio a un politico su un treno, poi scende in stazione e spende 2000 euro da Prada in Galleria Cavour con la carta di credito del derubato, scoperto dalla Polfer Larsenio Lupen dei treni che rubava per pagare i debiti di gioco. In attesa degli sviluppi nazionali, il PDL bolognese è pronto al congresso per eleggere il nuovo coordinatore cittadino. Il consigliere comunale Lorenzo Tomassini promuove le primarie e auspica una soluzione unitaria per la guida del partito. 6 milioni in meno rispetto al 2011 a disposizione della provincia per la manutenzione delle strade. I tagli colpiscono le casse di Palazzo Malvezzi a rischio gli interventi sulle buche e sulla qualità della viabilità. Buonasera telespettatori e ben ritrovati con questa edizione del nostro telegiornale. Giornata di disordini e di tensioni, quella di ieri a Bologna. Gli indignati dopo il mercato di mezzo hanno occupato anche il cinema Arlecchino di Piazza Renzo chiuso ormai da anni. Inoltre tre cortei hanno sfilato per le vie del centro creando naturalmente molti disagi ai cittadini e alla viabilità. Ma vediamo nel servizio quanto accaduto ieri e vediamo poi i commenti e le reazioni di oggi da parte del questore Vincenzo Stingone e anche del sindaco Merola. Tre cortei per dire no alla crisi e questa è la risposta degli indignati, la cui rabbia cresce ogni giorno di più. L'obiettivo è quello di occupare tutto e la sfida sembra davvero iniziata. La prima tappa è stata l'occupazione del mercato di mezzo di Via Clavature giovedì scorso messa a segno dai draghi ribelli. Ieri invece è stata la volta dell'ex cinemarco baleno di Piazza Renzo. Ad entrare in azione stavolta sono stati gli studenti insolventi di time out e della facoltà di lettere e a questi bersagli ne potrebbero seguire anche altri come ad esempio licei, istituti superiori o altre facoltà. Ma alle occupazioni si sono aggiunti i cortei, il più corposo e quello che ha creato i maggiori problemi al traffico cittadino nel tardo pomeriggio è partito da Piazza Ravegnana con circa 500 attivisti. Ha attraversato via Zamboni finendo sui viali davanti alla sede di Era per poi terminare il suo percorso in Piazza Renzo. Lì è scattata l'occupazione del cinemarco baleno chiuso ormai da anni. Alcuni degli attivisti, probabilmente i più avvezzi ai lavori manuali, hanno scassinato l'ingresso ed hanno invaso le sale sotterranee. I draghi ribelli invece si sono dati appuntamento in Piazza Cavour, teatro il 12 ottobre scorso di scontri tra manifestanti e polizia davanti alla sede di Banch'Italia per poi sfilare attraverso Via Farini, Piazza Galvani fino alla Questura, da lì il rientro alla base logistica del mercato di mezzo. Il terzo corteo infine ha scelto le strade della cittadella universitaria partendo da Piazza Verdi attraverso Piazza Aldrovandi dove poi sono state anche imbrattate le vetrate dell'Unicredit. Ultima tappa la facoltà di lettere che al piano terra è stata trasformata in una tendopoli. Il tutto naturalmente condito di striscioni, l'icona di santa insolvenza ed un enorme drago. Le premesse per gli obiettivi degli indignati ci sono tutte, ora si tratterà di capire quali saranno i prossimi bersagli. E per le occupazioni in corso a Bologna ad opera dei diversi movimenti degli indignati la legalità va ripristinata. Il questore Vincenzo Stingone interpellato dall'Ansa a questa linea per quanto sta accadendo in città anche con qualche polemica politica. Indipendentemente dalle ragioni della protesta, ha spiegato il questore, ci sono delle regole che vanno rispettate, il faro e la legge. La legalità va ripristinata, le proprietà hanno presentato querele che sono state trasmesse all'autorità giudiziaria segnalando anche problemi di sicurezza e dunque il rispetto delle regole serve anche a tutelare l'incolumità degli occupanti. E ancora un altro commento giunto nel pomeriggio di oggi, quello del sindaco di Bologna, Virginio Mero, la protestare a difesa dei beni comuni non può diventare un danno al bene della città. Non drammatizzare significa anche correggere comportamenti che rischiano di esasperare la situazione. Questo tipo di protesta illegale provoca disagi e danni ai privati e alla collettività. Invito dunque gli occupanti dell'ex cinema Marco Baleno a lasciare i locali al più presto, avendo la proprietà privata già mosso querela nei loro confronti. Informo inoltre che ho predisposto un'ordinanza di sgombero urgente, continua il sindaco per la struttura occupata dell'ex mercato di mezzo, anche perché questa mattina la polizia municipale, unitamente a tecnici dell'Ausle competente, ha effettuato un sopralluogo in via Clavature ed ha constatato che la struttura è adibita ad area di cantiere, una situazione che potrebbe generare pericolo alle persone che si trovano al suo interno. Dunque netta la presa di posizione del sindaco di Bologna che invita gli occupanti a desistere in sostanza. Cambiamo argomento, sono passati otto anni dalla strage di Nassiria, dove il 12 novembre del 2003 un attentato costò la vita a 19 italiani impegnati nella missione in Iraq. Anche a Bologna questa mattina è stato ricordato l'anniversario con una cerimonia davanti al monumento che si trova in Montagnola, presente come sempre il papà di Massimiliano Bruno, il giovane appunto che restò vittima dell'attentato e che viveva a Bologna. Sentiamo allora le sue parole, come sempre molto commosse. Un figlio che perdi così, non ti immagini neanche, che possa, che tu non lo vedi più, insomma va via per servizio. Poi dell'arma, l'arma che io ho sempre amato, l'ho sempre visto bene, lui era felicissimo di partecipare all'arma. Dopo anni di rabbia e di accuse contro quella missione in Iraq in cui perse il figlio Massimiliano, c'è soprattutto un ricordo affettuoso e la vicinanza all'arma dei carabinieri nelle parole di Nunzio Bruno, il padre del maresciallo che viveva a Bologna e che fu tra le 19 vittime italiane dell'attentato di Nassiria il 12 novembre del 2003. Faceva il suo dovere in maniera esemplare, riusciva anche a trovare modo per riproverare me quando io magari facevo qualche piccola trasversione, insomma non molto grave, ma però per il suo modo di vedere, di pensare, era una cosa che non andava fatta, perché così questa è l'educazione che hanno nell'arma. L'ottavo anniversario della strage è stato commemorato stamani davanti al monumento ai caduti di Nassiria nel parco della Montagnola. Presenti alla cerimonia le principali autorità militari, religiose e civili della città, il prefetto Tramfaglia, il questore Stingone, i vertici regionali dell'esercito e il comandante della legione carabiniera Emilia Romagna, il generale Tomasone, oltre come sempre a tanta gente comune. Sono passati otto anni, ma ricordo non può essere che vivo di un fatto che ha colpito l'arma dei carabinieri, le forze armate italiane, la nazione, le famiglie dei caduti e la più grande famiglia dell'arma ogni anno, insieme all'esercito che ha avuto caduti anche in Nassiria, ricordano il sacrificio di quegli uomini che avevano aderito all'invito a portare in qualche modo un nuovo ordine in un paese martoriato da un conflitto che andava avanti oramai da tempo. La cronaca lo hanno picchiato a sangue fino a rompergli il naso a pugni per portargli via 80 euro. L'ennesima violenta aggressione è avvenuta la scorsa notte a Bologna, in via del Guasto, in zona universitaria, vittima a un 29enne di origine siciliana. Ad affrontarlo sono stati tre moldavi che poi si è scoperto essere pugili a livello agonistico nel loro paese. Il giovane ferito è stato soccorso da alcuni passanti e poi da un'ambulanza del 118 che lo ha portato in ospedale. Poco dopo la polizia ha rintracciato gli aggressori, poco lontano, in via delle belle arti, mentre si spartivano il bottino. I tre moldavi che hanno fra i 20 e i 23 anni sono stati subito arrestati per rapina. Ed ora la pagina politica perché il PDL bolognese resta in attesa di capire che cosa succederà a livello nazionale e soprattutto quando si svolgerà il congresso per eleggere il nuovo coordinatore cittadino. Intanto il consigliere comunale Lorenzo Tomassini promuove una consultazione tra gli iscritti al partito. Vediamo allora l'intervista di Giuseppe Villoni. Tomassini, lei propone questa nuova iniziativa al 26, quindi il lancio alle primarie a Bologna? Ma guardi, non si tratta proprio di un lancio di primarie, ma comunque di una consultazione democratica aperta agli iscritti che abbiamo fatto al Popolo della Libertà. Si tratterà quindi di una mattinata di intenso lavoro sia sui programmi e sui valori, ma anche sulla scelta delle persone che dovranno essere protagoniste del congresso, io spero, unitario del PDL a Bologna. Siccome ci saranno più candidature che posti disponibili, secondo me la cosa migliore è organizzare una consultazione tra le persone che hanno diritto a voto per scegliere quali di questi dovranno entrare all'interno del parlamentino locale. Ecco, ma come pensa che reagiranno gli esponenti del suo partito? Ma io penso che potranno reagire solo bene, anche perché nell'attuale momento politico in cui si parla anche di elezioni a livello nazionale, il PDL potrà competere a darmi pari con gli altri solo se deciderà di dare voce alla gente. Io rivendico infatti la pienezza del diritto di voto di tutti i cittadini e questo significa dar loro la possibilità di scegliere le persone che andranno in Parlamento. Oggi questa è una scelta che invece è a pannaggio di pochi, noi dovremo tornare al passato e restituire ai cittadini la scelta del diritto dei loro rappresentanti parlamentari. Anche perché questo riavvicinerà i parlamentari alla gente, cosa che attualmente purtroppo non accade perché l'attuale legge elettorale li porta a concentrare le loro attenzioni soltanto verso il mondo romano. Ancora cronaca, sfila il portafogli ad un politico su un treno, poi scende alla stazione di Bologna e spende 2.000 euro da Prada in Galleria Cavour con la carta di credito del derubato. Il ladro che gli investigatori hanno ormai ribattezzato Arsenio Lupin dei treni è stato scoperto e denunciato dalla Polfer. È un cinquantenne siciliano, insospettabile anche per il suo abbigliamento sempre elegante. Per sua stessa missione ruba sui treni per pagare i debiti di gioco. Il politico derubato ha ricevuto l'SMS della sua carta di credito che lo avvertiva dell'acquisto appena fatto nella boutique di Bologna. Così ha presentato subito la denuncia alla Polfer. A tradire il ladro sono state le immagini della telecamera di sicurezza che lo hanno immortolato sia all'interno della stazione sia nel negozio di Prada dove ha fatto shopping. I poliziotti lo hanno rintracciato mentre si aggirava ancora una volta in stazione con addosso alcuni dei capi firmati acquistati con la carta rubata. E cambiamo argomento, nel 2012 la provincia di Bologna avrà a disposizione meno di 4 milioni di euro per la manutenzione delle strade di sua competenza. Una cifra assolutamente ben lontana dai 17 degli scorsi anni e naturalmente chi ci rimette saranno gli automobilisti e a rischio dunque la sicurezza e la qualità della viabilità extraurbana. Sentiamo Gabriele Sciarra. Buche, avvallamenti e rattoppi saranno il pane quotidiano per gli utenti delle strade provinciali nei prossimi anni. Questo perché dai quasi 9 milioni impegnati nel 2011 per la manutenzione si passerà ai tre programmati per il 2012. La causa, ha fatto sapere Palazzo Malvezzi, sta nei tagli dei bilanci che hanno prodotto un forte calo di risorse per questo settore. Cifre ben lontane dunque dai 17 milioni l'anno che costituivano la media tra il 2002 e il 2005. Con le cifre attuali, dicono i responsabili della provincia, si manterranno i requisiti minimi delle strade ma i livelli di intervento non saranno più adeguabili alle esigenze dei cittadini. Cala vistosamente anche il numero degli addetti alla manutenzione, i cosiddetti cantonieri. Dai 178 del 2002 si scenderà ai 120 del 2012. Tutti i numeri che difficilmente permetteranno di salvaguardare la qualità delle strade provinciali. Resta da chiedersi che fine fanno i soldi incassati da Palazzo Malvezzi con la reintroduzione dei passi carrai lungo le strade di competenza, l'applicazione dell'aliquota massima sulle pollizie auto e i tanti autovelox dislocati lungo le strade di pertinenza. Solo questi ultimi avrebbero reso alle casse della provincia qualcosa come 34 milioni di euro tra il 2007 e il 2011. C'era un movente passionale dietro l'aggressione a colpi di pistola avvenuta la notte del 13 ottobre in piazza Belluno a Bologna nella quale era rimasto ferito un trentenne cinese. La squadra mobile a conclusione delle indagini ha arrestato per tentato omicidio un connazionale della vittima Xia Feng Xia, 26 anni, residente a Padova dove gestisce uno studio commerciale insieme alla compagna, anche lei cinese. Quella notte il giovane voleva sequestrare il fratello dell'uomo che aveva una relazione con la sua fidanzata forse con l'intenzione di chiedere una sorta di risarcimento per compensare l'onta delle corna. Ma la vittima si era ribellato e mentre cercava di fuggire il 26enne gli aveva sparato due colpi di pistola ferendono ad una mano. Dopo la sparatoria l'aggressione si era rifugiato a Barcellona ma ai primi di novembre, convinto che le acque si fossero calmate è rientrato in Italia. Gli investigatori che attraverso intercettazioni telefoniche stavano seguendo i suoi movimenti lo hanno individuato e subito arrestato. Ed ora parliamo di salute ed in qualche modo anche di benessere perché è stato inaugurato a Bologna Body Diagnostica Internazionale un nuovo polo di diagnostica per immagini a bassa dose di radiazioni. È andato per noi Francesco Spada. Vediamo. Professor Monti, è il caso di dire che non si ferma mai. Qui adesso di fronte siamo a questo centro di diagnostica che ha un valore straordinario. Sì, si tratta di uno dei centri più grandi di diagnostica per immagine a livello nazionale e infatti noi abbiamo creato questo centro dove ci sono tutte le proposte della diagnostica per immagine andando dalle risonanze magnetiche infatti ci sono tre risonanze magnetiche di cui due hanno un tesle mezzo quindi hanno una grande potenza e c'è una delle tacche più all'avanguardia per scoprire malattie prima che si manifestano i sintomi e così RX, mammografia eccetera eccetera quindi diciamo che qui c'è la più grande concentrazione di strumentazione della diagnostica per immagine oggi esistente. Eccellenza, professor Monti va avanti nella sua opera nel suo lavoro, allarga e continua a fare tutto nel cuore, nel centro storico di questa città di Bologna so che lei lo conosce questo professor Monti E beh, eravamo in seminario insieme tanto lui lo sa benissimo che io lo so eravamo, siamo diventati preti insieme ecco, poi lui ha avuto un'altra strada e quindi ha una grande fantasia che deriva poi dallo spirito di intraprendenza che arriva sempre là dove c'è un dono c'entra sempre la fantasia dello spirito lui sta facendo naturalmente l'interesse dell'azienda ma anche un servizio pubblico per cui questa nuova TAC che io non so come si chiama quel suo nome di nuova generazione è messa a servizio della comunità e chi può accedere chi può, benissimo avere un'opportunità in più per la salute però quel che dico io sempre a lui è attenzione alla salute però con la S maiuscola la salute del corpo e la salute dello spirito perché alla fine tu quando campi cent'anni, benissimo centodieci, toh, è già molto però dopo dobbiamo andare nell'aldilà e nell'aldilà bisogna salvarsi l'anima e si comincia di qua a salvarsi l'anima tutto qui quindi sono venuto per dare la benedizione che vuol dire proprio questo invocare da Dio l'aiuto di cui tutti abbiamo bisogno per cercare il bene comune di questa nostra città Ed ora la pubblicità rientreremo in studio fra poco restate con noi Ancora in diretta dagli studi di ETG per rivedere gli argomenti del nostro telegiornale dopo la lunga giornata di protesta e occupazione da parte degli indignati il questore di Bologna chiede il ripristino della legalità le proprietà degli immobili hanno già presentato querela alla procura il comune è pronto allo sgombero 8 anni dopo la strage di Nassiria anche Bologna ricorda le vittime italiane in Iraq tra queste il maresciallo dei carabinieri Massimiliano Bruno che viveva a Bologna con la famiglia a ETG le parole commosse del padre sfila il portafoglio a un politico su un treno poi scende in stazione spende 2000 euro da Prada in Galleria Cavour con la carta di credito del derubato scoperto dalla Polfer l'Arsenio Lupin dei Treni che rubava per pagare debiti di gioco in attesa degli sviluppi nazionali il PDL bolognese è pronto al congresso per eleggere il nuovo coordinatore cittadino il consigliere comunale Lorenzo Tomassini promuove le primarie e auspica una soluzione unitaria per la guida del partito 6 milioni in meno rispetto al 2011 a disposizione della provincia per la manutenzione delle strade i tagli colpiscono anche le casse di Palazzo Malvezzi a rischio gli interventi sulle buche e sulla qualità della viabilità Ancora in diretta per parlare questa volta di sport calcio il campionato di Serie A è fermo per la pausa della nazionale il tecnico rosso-blu Pioli ne può approfittare per fare dunque alcuni esperimenti sulla squadra con il rientro di diamanti infatti si pone il problema di nuovo assetto tattico e della convivenza con Ramirez sentiamo allora che cosa ha detto oggi l'allenatore Pioli è chiaro che adesso con il recupero di diamanti può essere sulla carta sulla carta però chiaramente poi sarà il campo a determinare le mie scelte a fare alte valutazioni sulla carta sicuramente potremo anche provare l'obiettivo mio è dare continuità perché secondo me la squadra aveva bisogno di lucidità di continuità anche di atteggiamento tattico perché è chiaramente di certezza e quindi ho dato continuità nel modo più assoluto e questo sistema di gioco ci ha dato comunque dei risultati positivi perché è innegabile comunque se andiamo ad analizzare e secondo me poi dopo sono le cose reali le cose quelle che contano veramente se andiamo ad analizzare i numeri delle nostre 5 partite sono senza altro numeri positivi 3 vittorie 7 gol fatti 6 subiti quindi l'obiettivo era dare continuità ed è su quello che stiamo insistendo poi come come ho sottolineato sia a voi sia alla squadra non siamo non dobbiamo essere schiavi nell'unico sistema di gioco ma dobbiamo io la priorità è cercare di sfruttare meglio le caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione e quindi con l'ingresso di Diamanti quando sarà il 100% perché è chiaro che comunque un mese di assenza si fa sentire questa settimana qua ha lavorato senza altro con la squadra ha lavorato bene però chiaramente ha fatto molta fatica a seguire il ritmo dei suoi compagni ci sarà la possibilità poi di provare anche qualche qualche variabile e poi ci sarà da vedere da testare sul campo se questa potrà essere una soluzione positiva per la squadra è una variabile che c'è è dentro le caratteristiche dei nostri giocatori io quindi sicuramente la valuterò e la proverò e poi dopo vedremo se potrà essere una soluzione da adottare non sottovalutiamo il fatto che Ramirez nel ruolo in cui sta giocando sta determinando tantissimo ed ora la pubblicità poi ancora in diretta sempre in diretta c'è tempo soltanto per una rapida rilettura dei titoli dopo la lunga giornata di proteste e occupazioni da parte degli indignati il questore di Bologna chiede il ripristino della legalità le proprietà degli immobili hanno già presentato querela la procura il comune è pronto allo sgombero otto anni dopo la strage di Nassiria anche Bologna ricorda le vittime italiane in Iraq tra queste il maresciallo dei carabinieri Massimiliano Bruno che viveva a Bologna con la famiglia a Etig le parole commosse del padre sfila il portafoglio ad un politico su un treno poi scende in stazione e spende 2000 euro da Prada in Galleria Cavour con la carta di credito del derubato scoperto dalla Polfer l'Arsenio Lupen dei Treni che rubava per pagare debiti di gioco in attesa degli sviluppi nazionali il PDL Bolognese è pronto al congresso per eleggere il nuovo coordinatore cittadino il consigliere comunale Lorenzo Tomassini promuove le primarie e auspica una soluzione unitaria per la guida del partito 6 milioni in meno rispetto al 2011 a disposizione della provincia per la manutenzione delle strade i tagli colpiscono anche le casse di Palazzo Malvezzi a rischio gli interventi sulle buche e sulla qualità della viabilità ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di ATV grazie a tutti